Un candellone in fiamme ha incendiato un'autocisterna del carburante sul volo di Ponti-Panti. Presto, evacuate la zona immediatamente. Malcom, aiutami ad attivare il secondo cannone ad acqua di Titan. Beh, non sono un coppiero di strano, se... Lo so, ma dobbiamo sbrigarci. La sicurezza di Ponti-Panti è a rischio. Eh, e muoviamoci. Ben, portaci a distanza di sicurezza. Ok, Malcom, tienilo fermo, mira e spara. Oh, no, no, no! Oddio, scusate! Ben, non riusciamo a raggiungere le fiamme sull'altro lato del camion, perciò proveremo a raffreddarlo fino al vostro arrivo. Siamo quasi arrivati, Sam. Dobbiamo domare le fiamme con la schiuma, Elvis. Ricevuto, Benny! Sì, sì. E ora spegniamo anche queste fiamme più piccole. L'incendio è spesso, Sam. L'autosisterna si è rasprezzata. Non c'è più alcun pericolo che esploda adesso. Non c'è più alcun pericolo che esploda.